C'è un incontro di calcio giocato, se ne sentiva la mancanza dopo due settimane. La partita sarà arbitrata invece dal signor Matteo Cavancini della sezione di Lanciano. Ed ecco il fischio d'inizio per sostenere la vigor Senigallia che proprio ha battuto, ha dato il calcio d'inizio a questo incontro subito con la palla al capitano Marini che prova a ritrovare lo stato migliore. Seguiamo quest'azione Hernandez che viene atterrato proprio al limite dell'area e viene fuori anche il primo cartellino per Schaeffer che ha la posizione per i due giocatori del Termoli. Poi invece calcia Cagliazza palo, palo prima del Termoli con questo palo colpito da Aldo Cagliazza dopo quattro minuti di gioco. Ancora la vigor che adesso attacca con cinque giocatori nella metà campo avversaria, palla dentro per il numero 11 alla prima azione. Zammarchi la mette dentro dopo otto minuti di Termoli, questo varco creato nella difesa dei giallorossi. Zammarchi senta tu per tu con Raul Lombardo e lo supera con un destro alla destra del portiere di casa. Quindi all'ottavo minuto Vigor Senigalli ha uno Termoli zero direttamente in area, calcia adesso Longo. Invece è uno schema fuori per Federico Scoppa che però colpisce male. Scoppa che sbaglia e intercetta Bellello, sbaglia nel tentativo di servire Longo. Che Riota adesso prova ad andarsene sulla destra marcato da Cagliazza. Che Riota riesce a metterla in mezzo, ancora Zammarchi e ancora gol, doppietta di Zammarchi. Ha avuto ancora Hernandez che cerca la zolla giusta e poi calcia alto, preferisce calciare invece di servire un compagno. Quindi il Termoli che ha cercato subito di rientrare in partito con questa conclusione alta sul fondo di Kylian Hernandez. Ancora per Hernandez che prova anche in questo caso ad accentrarsi e un diagonale che arriva blandamente a imparare Roberto. La Vigor Senigalli è che Riota che si lancia a rete e poi il tiro è altissimo. Poi Gambini ancora la Vigor e ancora una palla dentro per Zammarchi e questa volta è lunga. E c'è l'anticipo di Lombardo. Scheffere un tocco corto per Keriota che batte di sinistro di prune, palla alta sul fondo. Hernandez per Esposito, vediamo che cosa potrà inventarsi Vittorio Esposito che chiama in aria il resto dei compagni. Palla ancora per Hernandez, pallonetto in mezzo, Burzio di testa e poi c'è il gol di Pietro Siciniano che si inserisce. 2 a 1. Quindi attrazione super offensiva rispetto a quello che era stato all'inizio di questo incontro ma per esigenze di percorso. Servi Filippi che era dovuto entrare in inizio al secondo tempo. Salta Allegretti, poi il suo tiro viene intercettato da Siciniano che devia in corner. Avrioni che prova a metterla in mezzo e poi c'è questo tiro. Ora Termoli con questo cross e il colpo di testa di Burzio. Fuori di pochissimo. Per Hernandez che salta subito un avversario. Hernandez prova ad intrufolarsi in aria, ce la fa. E poi il tiro respinto in qualche modo da tomba. Pronto a calciare, fischia l'arbitro, la palla in mezzo di Esposito. E ancora un colpo di testa fuori di pochissimo. Questa cagliazza batte proprio Keriota in aria. E poi un colpo di testa di Marini con la parata di Lombardo. La battuta lungo. E una palla lunga in aria. Burzio che la lascia scorrere. Proteste del Termoli per l'arbitro. È tutto regolare. Forse c'è stato un tocco di mano le proteste del pubblico. Ma si continua a giocare. E poi questo tiro dell'alto sulla traversa. Con questa palla interessante in mezzo. E il Vigor Senigaglia che si perde di poco sul fondo. Se ne va proprio sulla sinistra. Entra in aria Keriota e batte di prima intenzione. Respinge come può Lombardo. Ancora la Vigor. Con questo cross in mezzo. E il colpo di testa del numero 17 Broso. In questo istante il triplice fischio. Dunque si conclude l'incontro qui al Gino Cannarsa. Prima di ritorno del Girone F. Diciottesima giornata. Termoli 1 Vigor Senigaglia 2. Succede tutto nel primo tempo. La doppietta di Zammarchi. La risposta di Siciniano. Che aveva accorciato le distanze. Ma questo è il finale. 2 a 1 per la Vigor Senigaglia. La risposta di Siciniano.